Magari il tipo era venuto a comprarsi una dose e ha avuto problemi col pusher. Contatti con questo peluche ne abbiamo? Che? Pusher. Col peluche. Quindi sarebbe un omicidio? Sarebbe un omicidio perfetto. Ma intanto io devo stare qui dentro. No, adesso vi portiamo ai pizza. E mi faranno capo della polizia. D'Italia? No, del Congo belga. A cosa stiamo lavorando? Stiamo? Sei venuta con i forzi? Sì, più o meno. Vedremo. Pasquale, lascia verde. Possiamo perdere? Sì. Se permesso! E non batti piatto neanche per sbaglio, vero? Già, guarona mia! Ma questa è proprio scena. Provate una vera tosa! Ma chi è a quest'ora? Massimino, sei venuto? Massimo? A me che ci si improvvisa padre dalla sera alla mattina, eh? Va bene. A parte un pelino, a me. Chi mi è rimasto? Non chiamarlo un pelino. Un pelino! Tanto... Prima o poi si deve svegliare, no? No? O... M... O... G... Me f... Pena. Fina. Grazie. Me veniva la parola. Osea, me veniva schifo. Ma mi sa che... Te lo hai detto? Va bene, un misto, pene schifo dai. No. Me restro... Mi affianza. Mi fattola. Grazie a tutti.